Blackberry Bold 9000 vs Blackberry Bold 9007, ultima arrivata della casa RIM in Italia, come sempre con Emilio Vignapiano sul Cellularemagazine.it Prima di tutto dimensioni dei due contendenti, 114x66x14,2mm per 144g per il vecchio modello di Bold, più grande naturalmente del nuovo Per il nuovo abbiamo invece 109x60x14,1mm, 122g, differenza di peso non si sente tantissimo in mano perché la superficie di impugnatura del vecchio modello permette di distribuire meglio il peso Infatti il vecchio sembra più pesante, ma in verità non lo è. Le dimensioni però si sentono purtroppo nella tastiera, come potete vedere una volta messi uno sull'altro Praticamente una fila scompare di tasti, quindi hanno dovuto comprimere le dimensioni Fortunatamente sono sempre ben sagomati, ben dimensionati e ben separati i tasti del Blackberry In particolare questo è il modello di punta del form factor classico con tastiera QWERTY nella parte inferiore Leggermente superiore l'inarcatura ora dei tasti che cercano di salvare il salvabile Bisogna dire che purtroppo bisogna riabituarsi. Io che lo uso per scrivere email da un bel po' di tempo Ho dovuto rieducare un attimino i pollici, i miei non sono piccolissimi come potete vedere Le ho dovuti rieducare alla tastiera. In particolare poi a livello visivo sembrano molto più piccoli I due tasti funzionano per il menu e per il back e non depone bene In verità sono ben dimensionati e non è difficile, però a livello ottico non lo sono tanto L'ultima fila di tasti è veramente piccina, in particolare lo 0 è quel tasto che ne soffre di più Oltre al tasto SIMS per le funzioni, però lo 0 nella digitazione dei numeri ne soffre Perché è veramente sottodimensionato anche rispetto a questi tasti che sono più piccoli BlackBerry ha assunto la medesima colorazione, ora i tasti numerici non sono più di un altro colore Questo non depone bene, in particolare in condizioni di luce non netta come potrebbe essere totale buio O luce diretta Schermi diversi e diverse risoluzioni Infatti nel vecchio modello abbiamo 2,75 pollici per 480 x 320 pixel La differenza si vede, in particolare in larghezza Però il nuovo modello, nonostante sia da 2,44 pollici, ha bene una risoluzione di 480 x 360 Introduce quindi BlackBerry una nuova risoluzione su schermi così piccoli Infatti come potete vedere proprio ad occhio Cercando di mettere gli schermi il più allinati possibili Potete vedere che quello nuovo sembra un poco poco più lungo Questa è una cosa abbastanza ottica Però la risoluzione è quello che fa la differenza e fa sembrare questa cosa tale Il sistema operativo è praticamente lo stesso perché anche il Bold ha ricevuto l'aggiornamento al 5.0 Quindi potete vedere le icone uguali Non sono più separate graficamente nel desktop Premendo il tasto funzione abbiamo praticamente lo stesso menu Il nuovo schermo è più brillante e si vede Altra differenza che salta subito all'occhio è l'assenza del Pearl O come veniva definita Pearl su alcuni modelli quando è uscito l'8110 Chiamata Trackball Abbiamo invece ora il Trackpad di BlackBerry Che non è altro che un pulsante ottico Funziona benissimo Molti utenti ci hanno scritto che hanno problemi Non sappiamo se sono i loro modelli per un difetto hardware Oppure se non riescono ad abituarsi Noi ci siamo abituati subito È preciso È molto funzionale Ed è anche puntuale Ci si abitua molto molto velocemente a questo tipo di Joypad Lato destro troviamo bilanciere del volume su ambito i modelli Però come potete vedere è molto più integrato A livello di look E risalta molto di più perché sono ben sagomati i tasti Tasto funzione Rimane la possibilità di utilizzare dei dock per ricaricare Quindi di tenere il telefono in posizione verticale E non utilizzare la porta per ricaricare il modello Finiture sembrano un pochino superiori sul nuovo modello Però purtroppo va visto poi in condizioni di utilizzo quanto si graffia Pulsante per lo stand by Qui invece è un pulsante per bloccare e sbloccare lo schermo Qui niente Mentre sul nuovo modello troviamo il pulsante per lo stand by A livello di utilizzo Sono praticamente identici L'audio è eccellente in ambito i modelli Il led nella stessa posizione Il microfono nella parte inferiore Anch'esso è posizionato nella parte sinistra Quindi non è altro che questo 9700 è un'evoluzione Il supporto radio è praticamente identico Quadribanda GSM con correttività GPRS edge ma anche UMTS, HS, DPA Non manca il wifi Deo grazie all'estero serve tantissimo Non manca neanche il bluetooth Diventato in versione 2.1 e non più solo 2.0 Nella confezione il vecchio modello prevedeva una micro SD da 1 GB Mentre quello nuovo da 2 GB Questo forse anche per la telecamera Infatti gli scatti sono più pesanti E c'è bisogno naturalmente di più memoria Ambe i due modelli sono commercializzati in Italia a un prezzo simile Infatti per il vecchio modello si parla di 469 euro Bisogna però dire che si trova facilmente a 400 euro Mentre per il nuovo modello è 499 euro Bisogna dire che questi modelli Gli operatori tendono ad integrarli in piani tariffari Con il servizio BIS e BAS BlackBerry Per avere l'email in tempo reale E quindi variano con prezzi da 149 a 399 euro Partendo dal BOLD per arrivare fino al BOLD 9700 E' tutto Per cellularemagazine.it Emilio Vignapiano con i BlackBerry BOLD 9000 Versus BlackBerry BOLD 9700 Per effettaci di Daniel Grazie a tutti.